Ciao, noi siamo Chiara e Luca. Questo è Hit Your Time! Oggi prepareremo insieme i pomodorini confit in friggetrice ad aria. Innanzitutto prendete 350-400 grammi di pomodorini tipo ciliegino, ma anche i piccadigli o i perino possono andare bene lo stesso. Tagliateli a metà. E disponeteli a scolare con la parte piatta, con il taglio, su carta da cucina. Questo permetterà di assorbire l'eccesso di acqua di vegetazione e velocizzerà l'essicatura e la cottura dei pomodorini. Ora mettete della carta da forno traforata nel cestello della vostra friggetrice ad aria e sistemate i pomodori con la parte piatta rivolta verso l'alto. Mi raccomando, in un singolo strato, se no non cuoceranno bene. Eccoli qua, pronti da condire. Mettete ora in una ciotolina un cucchiaio di zucchero, mezzo cucchiaino di sale fino, mezzo cucchiaino di origano, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, è facoltativo se non vi piace il gusto forte dell'aglio, e poi mezzo cucchiaino di maggiorana. Mescolate bene tutti gli ingredienti e poi cospargete metà della miscela di spezie sui vostri pomodorini. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per non perdere nessuna delle nostre meravigliose ricette. Se questa vi è piaciuta mettete un bel like e non dimenticatevi di condividerla con i vostri amici e i vostri parenti. Spruzzate con olio extravergine d'oliva i vostri pomodorini prima di cuocerli. In forno tradizionale ci vorrebbero circa due ore a 140 gradi centigradi. Nella friggitrice ad aria invece andremo a cuocerli a 170 gradi per 20 minuti. Dopodiché metteremo le restanti spezie sui pomodorini, e li cuoceremo ancora per 3 minuti a 200 gradi centigradi per completare la caramellatura. Eccoli qui, pronti da gustare. Ideali come condimento per una pasta, come contorno, come antipasto, ma anche per farcire, pizze focacce e splendide bruschette. Buon appetito! Eat your time!